Un caro saluto da Mario Giuliacci. Il tempo è previsto fino all'11 maggio, ossia all'incirca nei prossimi 10 giorni. Molta alta pressione e poche piogge, purtroppo. Prima fase, tra il 3 e il 9 maggio, domina l'anticiclone nordafricano, quindi prevale il bel tempo, temperatura ovviamente al di sopra delle medie, massime ovunque sopra 20 gradi e con valore fino a 25 gradi sull'Emilia e sulle regioni mariglionali, in particolare sul Materano sull'interno della Sicilia. Poi tra il 10 e l'11 di maggio, invece, arriva una piovosa perturbazione atlantica, porterà piogge su tutto il centro nord e sulla campagna, piogge che saranno abbondanti sulle Alpi centro-orientali. Le temperature ovviamente tenderanno a scendere in questa fase con valori massimi tra 18 e 23 gradi. Bene, termino qui. Un caro saluto ancora da Mario Giuliacci. Vi ricordo di scaricare dall'home page del nostro sito la nostra app che è semplicissima da usare.